Per tutti i dati sono sempre io e oggi siamo tornati su Life is Strange Ok, che dobbiamo fare? Trovare gli indizi? Ok, questi sono gli indizi di David Vediamo questo prima, selezioniamo anche questo, poi questo secondo me è utile Allora, secondo me ho questo, questo e Nathan Vedi? Guardiamo un po' Proviamo i tre fogli Questo Può essere che ci sto arrivando? Vediamo un po' Sono un pro, signori Adesso andiamo con questi indizi Allora, le tue immagini sicuro mi dicono qualcosa Quindi sarà questa lettera E questa lettera Quindi ci entra questo libro E questo foglio No Questo foglio Madonna Il pro, signori Max, I know we can snap all these pieces together Roger that I'm gonna study the board and try to connect all these dots Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues Just holla if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything Great, now how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Allora, questo, questo e questo Quale delle tante targhe? Ok, Nathan's tail light is busted And I'm pretty sure I saw that on one of the license plate photos Quindi fanale rotto Allora, sicuro è questo secondo me Poi c'entra questo E questo Guarda che ho capito come li collego Mi sta mandando in tilti il cervello Allora, se non è questo è fanale rotto Ci andranno qualcosa a questo E questo Ho capito che era rotto sto maledetto fanale Cioè ci metterono in episodio intero solo per fare questo Chi altro era David tracking qui? Perché la felicità ti seguisci queste persone? E per dove? Ok, abbiamo trovato la macchina di Nathan Hmm, chi è questo caro che appena? Ovviamente Nathan drive un SUV Overcompensato Come usual There's Nathan Deguando con i figli Right out in the open Maybe I should have let Warren Beat Nathan's ass down Just this once Ok Nathan's tail light is busted And I'm pretty sure I saw that Ed è questo con l'immagine Madonna Chloe Chloe Let's plug in these numbers And see if they lead to an actual address Aye aye captain Here we come Rachel Ma io chi sono Altri due I have to analyze Nathan's messages What could help me unlock this phone? Sim Dossier dello studente sicuro E questo foglio Damn E' la sim E' la sim Ok Il pin Lo troviamo Così Ci avevo ragione Ma dobbiamo trovare il pin A ricerca del pin perduto I wonder if there's any important dates or numbers in his school file Oh you're treading water Otter Try again Sim Telefono Foglio Ed è più A I wonder if there's any important dates or numbers in his school file Allora dossier Il telefono E il foglio Sono un detective Messaggio Le troiette ne sanno battersi Tu sfondi la porta della mia stanza Io distruggo la tua borsa di studio Italiano please Ma indaghiamo Qua non giocavi tu una mazza veramente Questo è difficile Dobbiamo capire Come è stato Max All you have to do is find any deals between Frank and Nathan this week Ok questa settimana Questa settimana dovrebbe essere No Allora quello più vicino mi sembra questo Poi vediamo qua Sì sicuramente c'entra anche questo Va vediamo questo Come non detto Io sto mettendo quelli più vicini Secondo me Questo è del 4 E questo è del 5 Quindi questo Questo E questo Allora Sto weekend sarà questo Secondo me sono collegato I cosi E' difficilissimo Ok Forse ho capito Ci metterò tutto il tempo possibile O se voglio mandare in ordine So così Max All you have to do is find any deals between Frank and Nathan this week Madonna ti odio Allora questo Madonna se ci arrivo Sono un pro Vediamo Vediamo Questo Parla del set Ok Questo è solo Sad Max Che cacchio mi vuol dire impegnati di più Ah ma qua devo scoprire ancora il telefono Ok E qual è lo codice? Ah Qua ho capito ma Allora abbiamo detto che c'entrava questo 1995 1995 1995 I knew it wouldn't be that easy 29 agosto 29 8 You locked it Dumbass Il PUC Non è che 08 29 Madonna Ma io sono un pro Yes This is all about Nathan trying to score for the vortex club party E lui ce l'abbiamo Manca l'ultimo quello più difficile Frank manca Sto Frank non ci ho capito C'entra qualcosa sto voglio Madonna Ma no Tre anni per capirlo Eh ma dobbiamo indagare su questo Non so nemmeno io cosa sto facendo If I can match one of the text messages and transactions with Frank Then I can find the exact location Oh that has to be the Prescott estate Poor rich Nathan That beach is like Frank's main office Was Frank meeting Nathan at the junkyard If Joyce knew what Nathan did to Chloe She would fry his ass No doubt that Nathan stays in his dorm room So he could Somebody is stocking up on gas Why Since Kate left the party early with Nathan I should search for texts and locations and transactions in the evening Ok probabilmente ci sto arrivando I'm pretty sure everything happened during that last vortex club party One eternity later Allora forse ho capito Forse Allora Allora secondo messaggio in alto Poi questo qua da fianco al Deplian E terza foto in basso Oh e che diamine Chloe This is definitely the place Let me dig up some more clothes here Nope Nothing Max There's nothing here There's some shitty old barn Let's keep searching and find out who owns this haunted barn I'm on this Hold on Somebody named Harry Aaron Prescott I'm shocked Should we call the police? Fuck that You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up As you've noticed this whole town is messed up We can't trust anybody Except each other So we have to go out to that farmhouse by ourselves I was afraid you'd say that We could call Warren since he kicked Nathan's ass It's just the two of us Nobody else And I'm not scared at all You have the power I feel like we're this close to finding Rachel We have to find her Max We will But remember My power isn't infinite We still have to be careful Do you hear Chloe? Yes sir Holy shit, this is scary I know But we're here Let's go find the best way in Wow, check this out Fresh tire tracks Dude, somebody was just here Then we need to get in that barn Oh, un messaggio Grazie per avermi fermato A proposito di scimmiarsi Meritava di essere pestato Ma non voleva abbassarmi al suo livello Inoltre, prima o poi Lo farà qualcun altro Sei saggio e grillo parlante Grazie Ma non sono esattamente L'eroe di cui questa città ha bisogno Sei stato comunque un eroe Ora abbiamo solo Bisogno di costumi A proposito Spero che tu venga alla festa questa sera Così possiamo festeggiare Ti faccio sapere presto D'accordo Ora bisogna di calmarmi E grazie per avermi lasciato un segno sulla mia porta Non lo cancellerò mai Non ti azzardare È permanente Bene Ok Secondo me Direi di chiudere qua Questo episodio Abbastanza lungo Ora non lo so Dipende Bene Spero che vi sia piaciuto Se si lasciano like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Ovviamente Su altri social Link in descrizione E niente Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima